Un uomo di origini magrebine è stato investito ieri pomeriggio in località Santa Cecilia di Eboli mentre attraversava la strada. Il conducente dell'auto dopo l'impatto ha proseguito la corsa senza curarsi delle condizioni del ferito, soccorso prontamente dagli operatori del 118 i quali lo hanno trasportato presso l'ospedale di Eboli. L'uomo per fortuna è fuori pericolo visto le ferite non gravi riportate. Sul fatto indagano i carabinieri che sono sulle tracce del pirata della strada il quale ora rischia una denuncia per lesioni ed omissioni di soccorso.